Noi siamo Legend Crew, siamo in otto di varie zone della provincia di Modena, tra cui Castelnuovo, Bastiglia, Modena, Casinalbo e altri posti. Abbiamo un gruppo con il quale facciamo altri spettacoli, abbiamo ballato anche Cultura Moderna, sono alle 5, poco tempo fa e balliamo in media sui 4 anni, c'è anche chi balla da un po' meno, che è entrato da un po' così poi sì, adesso abbiamo anche dei ragazzi più piccoli che stanno imparando, anche delle ragazze stanno tirando su dato che ce ne sono poche, saranno 5-6 adesso che stanno prendendo su Alessio, sempre del gruppo, che è il gruppo, questa gara maglietta. Alessio, poi c'è Speed, che è lui, e c'è Justin, qui siamo adesso gli altri ma poi lui è uno di quei ragazzi iniziato da un minuto. Ciao. 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 Ciao.